Sono 30.000 le penne nere attese da oggi a domenica a Chiampo per l'edizione 2017 del Raduno Triveneto degli Alpini. Una grande festa che riunirà le 25 sezioni Ana di Veneto, Friuli, Venezia, Giulia e Trentino Alto Adige. In Val Chiampo è già tutto pronto, i tricolori esposti già da giorni alle finestre aspettano di salutare le penne nere che in questa zona sono di casa. Sarà un bel modo per festeggiare la nostra tradizione alpina, la nostra vocazione alpina direi che qui è molto forte. I nostri alpini e anche la nostra cittadinanza sono da mesi che stanno organizzando e preparando questo evento. Numerose le iniziative previste nella tre giorni di raduno come il conferimento della cittadinanza onoraria all'Anao e il lancio dei paracadutisti allo stadio previsti nella giornata di domani. Immancabile l'arrivo del Labaro Nazionale e il concerto delle fanfare in attesa della lunga sfilata di domenica che prenderà il via con l'ammassamento e il largo mazzocco per terminare in via Pieve. Ciò che ci aspettiamo è quello di accogliere appunto questa grande massa di alpini che arriveranno qui da noi, che si possono sentire accolti, ben voluti da questa nostra città in un grande abbraccio che Chiampo vuol dedicare a tutti i nostri alpini che tanto fanno per le nostre comunità e tanto hanno fatto appunto per questo nostro paese. E come ormai tradizione ci saranno anche le telecamere di Rete Veneta a seguire tutto l'evento in diretta a partire dalle 9 portando nelle vostre case le grandi emozioni alpine.